E' cominciata la partita, i due difensori centrali sono Esposito e Schiavino De Cristoforo, palla nel mezzo il colpo di testa di Gori che finisce, intanto Frascatore parte il cross verso Gori che stacca di testa, la incrocia benissimo e colpisce il palo, non è finita, Sacco col destro murato grandissima occasione per la... Sacco, attenzione, Sacco, punto alla porta, Sacco lascia Gori Gori col sinistro spazio De Cristoforo, larga per Giano che a metri a disposizione palla nel mezzo, Tesa Ausilio, ancora per Liotti che può crossare col Mancino eccolo qua sul secondo, Paolo Benedetti va via d'Ausilio va Liotti a metterla nel mezzo di Giorgio e non ci arriva e poi la grande parata di Ragone su Gori se non erro fischio dell'arbitro parte Liotti col sinistro sul palo del portiere e bravo Ragone beh, comunque, annullato il gol all'avellino intanto Gori, vediamo se la sblocca Gabriele Gori Gori, Gori col sinistro Gori, Gori col sinistro Gori, Gori col sinistro il colpo di testa di Benedetti nel mezzo intanto ancora Liotti col sinistro sul secondo palo altro schema e anche a Sillo un tocco che favorisce Liotti limite dell'aria Gori difende la sfera, lo fa bene va col sinistro la bella parata di Ragone palla sul destro, vuole il tiro ci prova Marson senza problemi Telefona occhio fuori dall'aria a Sacco occhio a Benedetti che si stacca sul secondo palo ecco il cross proprio Benedetti di testa non è finita perché c'è Gori contro uno Rigione Orlando lo porta sul sinistro è iniziato adesso il secondo tempo Bianco Verde va col cross nel mezzo armellino di testa c'entra Rocca maisto di prima dentro per De Michele una bella palla De Michele De Michele De Michele oh c'è il movimento dentro di De Michele col destro che peccato Tribuzzi in aria Tribuzzi pallonetto col sinistro Tribuzzi palla sul destro per Cancellotti Cancellotti la meta all'indietro De Michele col destro che aggancia che ha visto Maisto posizione regolare per Maisto che si invola verso la porta Maisto in aria Maisto il sinistro il palla sul destro la finta di Russo Russo mette a sedere tutti ancora Russo e poi prova riconquista il pallone Russo la grande giocata di Russo che vince il rimpallo Russo va col destro Russo in mezzo per De Michele colpisce il difensore non è finita De Michele la parata di capo destro piede invertito San Nipoli prova il gioco di cambio la palla sul secondo palla verso Tribuzzi di testa alta De Michele per Tribuzzi posizione regolare Tribuzzi la mette male nel mezzo lascia lì ancora per Cancellotti parte il cross per De Michele che non ci arriva occhio a Maisto che può andare col sinistro De Michele la palla è buona De Michele De Michele l'uscita del portiere ancora De Michele dribbling doppio triplo De Michele ancora Palmiero cross nel mezzo verso Russo di testa la parata di Russo San Nipoli con la Trivela nel mezzo non è finita San Nipoli col destro non c'è più tempo 44 e 40 sul cronometro finisce qui Lavellino batte l'equipe Campania Angri col punteggio di 6 a 0 non c'è più tempo di più tempo